Dopo il grande successo di pubblico di sport sul palcoscenico lo scorso anno, ritorna nuovamente in una rinnovata edizione nel cortile del Broletto. Sì, effettivamente il successo della manifestazione, dell'evento che abbiamo organizzato l'anno scorso di sport sul palcoscenico, con delle serate sia al Broletto che al Castello, ci ha dato la spinta per riproporre quest'anno una nuova edizione con un format che ricalca il format dell'anno scorso, con ospiti nuovi che parleranno campioni e con giornalisti che parleranno di sport, di varie discipline, si parlerà di calcio, di rugby, si parlerà di basket, abbiamo degli eventi molto importanti. È una rassegna che occupa la parte centrale di giugno e luglio, una rassegna che si svolge al Broletto, abbiamo scelto di fare questa iniziativa, di fare questo evento al Broletto, in centro, per dare l'opportunità anche alle persone intanto di frequentare il Broletto, di stare in giro la sera, di vedere questi monumenti bellissimi della nostra città, dove per la prima volta l'anno scorso e quest'anno si ripete, si parla anche di sport. È un'iniziativa che si colloca tra l'altro sull'iniziativa più grande organizzata dall'assessorato alla cultura, alla città come palcoscenico. Noi ci auguriamo che gli eventi di quest'anno siano in grado di ripetere il successo dell'anno scorso e magari anche di aumentare. Cinque incontri in cui si parla di sport a tutto campo con ospiti di eccezione. Sì, sono estremamente contento perché da un'idea molto bella e importante dell'assessore Trivi è venuto fuori davvero un festival letterario di sport con ospiti che credo siano di assoluto livello e trattando comunque argomenti molto diversi. Lo faremo in modo il più divertente possibile perché è importante divertirsi per chi guarda ma anche per me che conduco e questa è la massima che ho sempre adottato quando faccio qualcosa per radio o in altra sede. Cinque incontri che hanno, dicevo, un filo conduttore diverso perché cominceremo con un derby Milan-Inter, quindi storie di derby e avremo le due squadre in campo, una capitanata da Beppe Severnieni, tra l'altro è il ventesimo anniversario della parola interismi, mi ha detto l'altro giorno, su cui ha fatto diversi libri e dall'altra parte avremo come capitano della squadra Mario Ielpo, cioè exportiere del grande Milan e a contorno, ma nemmeno troppo, sarà un contorno divertente e sonoro perché mi porto dal Sole 24 Ore Mauro Meazza che conduce a Radio 24 due di Denari che è il responsabile di enorme tributi del Sole 24 Ore ma questo è il suo hobby perché il suo vero lavoro, la sua vera passione è la musica con un gruppo dall'altra parte, San Filippo, che è autore insieme a Gianni Sacco, ad esempio mio amico professore dell'Università di Pavia, di un grande volume sul Milan, quindi Scambio dei Gagliardetti e poi San Filippo che è un noto cantautore milanese, ci sarà l'inno nazionale dell'incontro, ci saranno alcuni momenti musicali, una serata che penso possa essere estremamente gradevole, ma non devo dirlo io, dovrà dirlo il pubblico che verrà, poi avremo invece un evento che ho già fatto, che a me piace da morire, cioè tra le cose che faccio è quella che mi piace di più, cioè questo incontro con Dan Peterson che parte da alcune fotografie che vi faremo vedere e che insomma raccolgono e riassumono la sua carriera che non è solo da allenatore di pallacanestro, è da Lipton ST, è da commentatore dell'NBA, è da rapporti con la Milano degli anni Ottanta, è il racconto della sua America, contando che è nato nel 1936 di storie da raccontare, nel suo slang ce ne sono davvero un sacco ed è qualcosa di secondo me di eccezionale. Avremo poi invece un altro derby, anzi altri derby che sono quelli della Lombardia dei Canestri, Triangolo delle Bermude, Milano Varese Cantù, hanno fatto la storia del basket italiano tra scudetti, coppe, risse, rivalità, anche feroci dal punto di vista sportivo e purtroppo non solo. Bene, a raccontare questi derby saranno Dino Meneghin che praticamente è la storia dei derby Lombardi, Antonello Riva stessa cosa, storia dei derby Lombardi da avversario Canturino e poi non possono mancare gli esponenti della pavia dei Canestri che hanno giocato pure quei derby, cioè Attilio Caia e Fabio Di Bella che pure saranno con noi. Avremo poi un appuntamento regbistico perché Pavia è città di rugby quindi è giusto inserire questo appuntamento e anche lì c'è un un ospite molto importante perché Maxime Bandà che è un nazionale italiano che ha scritto un libro in cui racconta la sua avventura perché lui è stato insegnato dell'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica da Mattarella perché nel corso della pandemia ha svolto un'eccezionale opera di volontariato. Adesso rimane terza linea del colorno e della nazionale quindi ha da raccontare storie di rugby ma non solo di rugby. Avremo poi suo omologo, cioè terza linea della colorno femminile che è una giocatrice della nazionale italiana e nazionale italiana che a differenza di quella maschile sta andando fortissimo anche nelle sei nazioni tanto che nell'ultima edizione ha vinto delle partite storiche. Poi ci sarà con noi Giacomo Bagnasco che è la voce del rugby per la mia radio da sempre da 22 anni, giornalista del Sole 24 ore, ci sarà Gianluca Barca direttore di All Rugby e quindi avremo chiacchiere di rugby ma non soltanto. Avremo anche collegamenti per tutti questi appuntamenti o per molti di questi appuntamenti collegamenti video con grandi protagonisti di tutti gli sport. Chiuderemo con tutti i convocati on the road, programma che conduco tutti i giorni su Radio 24 quindi mi porterò dietro la mia compagnia di giro Giuseppe Cruciani, Franco Ordine, Fabrizio Biasin, ci sarà Alessandro Allara, ci sarà Chiari Cardi, ex tennista, molto carina tra l'altro oltre che molto sveglia e quindi questa sarà la serata finale del 20 di luglio con cui chiuderemo questa rassegna.